Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 15 aprile 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Sì, viaggiare. Sia pure di fantasia. Dopo avervi colpito con una freccia nel cuore e una martellata in testa, Cupido si dà ad affare per conservare il rapporto e con la luna e Saturno per amici e Giove tenero anche all'opposizione, ci riesce alla grande viaggetto romantico, destinazione mare o lago, con la persona del cuore, senza trascurare per questo le banali faccende del weekend. Peccato dover rientrare stasera, se avete un ruolo di responsabilità non potete mollare la nave in mezzo alle correnti oceaniche, non sarebbe degno di un capitano di lungo corso. Tra voi e i vostri desideri si è creato un muro, sia in amore che in tutti gli altri campi, vi divide da ciò che desiderate un autentico muro di difficoltà e ostacoli. Il muro che si è creato o si sta per creare appare insormontabile e irto di difficoltà. Sentimenti sfaldati, rinunce, vuoti di affetto. Per alcuni oggi è giornata di grandi ritorni, saranno improvvisi, inaspettati e fino a tarda serata potrebbero meravigliarvi. Per altri invece il pensiero fisso dell'attesa di un ritorno potrebbe non far spiccare il volo proprio nei sentimenti. Se siete gelosi, o vi sentite tali, moderate la vostra gelosia, o almeno tentateci. Potreste essere al limite della sopportazione senza saperlo. Possibili contrattempi nella prima mattinata, i mati di lunedì e martedì potrebbero arrivare in ritardo ad appuntamenti importanti. Posta in arrivo. Sentite fortemente il bisogno di vivere l'amore con leggerezza in questo periodo della vita. Attenzione a non scottarvi avete molti pregiudizi ancora nei confronti di una persona che non vi sdegna di mostrarsi interessato a voi. Una volta tanto potreste oggi anche pensare di ascoltare ciò che ha da dire e mostravi aperti e condividere con lui i vostri pensieri. Oggi vi mancherà la pazienza e la calma, vi sentirete stranamente nervosi e insofferenti a molte persone e a certe situazioni. Fate in modo da non far degenerare alcune situazioni. I single godranno di una giornata fantastica, del resto ve la meritate. Però il tempo dell'amore non è ancora così vicino. A volte rendersi conto di stare esagerando vale più di mille scuse, siate diplomatici e accondiscendenti, almeno oggi, perché non sempre gli interlocutori saranno disposti oggi a tollerarvi. Rinviate la riparazione di un oggetto elettronico, pensate, caso mai, se non sia il caso di sostituirlo del tutto. La differenza di spesa non sarebbe poi notevole. Possederete oggi nelle vostre mani un prezioso ingrediente della vita che si chiama fantasia, su cui fare grande affidamento. Ve lo consegna Nettuno, dal segno amico dei pesci se siete nati nella terza decade. Lo userete in ogni settore, dall'organizzazione dei vostri inviti e cerimonie familiari, alle cene e ai ritrovi con i pochi amici fidati. La luna in cancro vi guarda benevola per tutta la giornata, consentendovi di essere il centro della vita familiare, aiutandovi a sistemare molte situazioni lasciate in sospeso da un punto di vista tecnico, pratico. La luna e Saturno, entrambi in segno d'acqua, fanno micio micio col vostro, un triangolo acquatico dove fare splash tra sogni, sentimenti e bi e ricordi. Fuori dal coro solo venere, creativa e premurosa nel settore numero 6 dell'oroscopo, quello che parla di lavoro, magari volontariato, oppure fai da te, vi piace creare qualcosa di carino per la casa, curare orto e giardino, preparare da voi stessi cosmetici con ingredienti esclusivamente naturali. Amore ed Eros. Può nascere da un'amicizia o da una notte incendiare di passione, oppure dalla frustrazione di una storia chiusa di recente, che ha lasciato cicatrici nel cuore, o ancora, da separati, dai giochi dei vostri figli e di quelli del nuovo partner, che si sono incontrati e vanno molto d'accordo, proprio come fratelli. Bel segnale, per rifarvi anche voi il cuore lacerato. Tranquilli, guarirà, la vita offre sempre una seconda chance e spesso è migliore della prima. È la componente passionale del rapporto ad essere in primo piano, specie se festeggiate il compleanno dal 30 ottobre al 5 novembre. La luna, in serata, si occupa di farvi essere attentissimi con la persona che vi sta accanto. Marte, in buona posizione per il vostro segno dai pesci, vi fa ritrovare una profonda intesa e, vivere la relazione d'amore a tutto tondo, sarà la soddisfazione che questa giornata di festa vi regalerà. Lavoro e denaro. La natura è un'ottima ispiratrice, la creatività reclama spazio e tempo da dedicarle. Padronissimi di farlo se siete da soli o in famiglia, ma circondati da conoscenti coi quali magari non avete confidenza vi sentite bloccati. Girate sui tacchi, mollate gli ormeggi ed esprimetevi liberamente. Amici zelanti pronti a darvi una mano, se l'auto si guasta o c'è una riparazione urgente da fare in casa, non rimarranno a guardare, altrimenti che razza di amicizia sarebbe? Tranquillo anche il viaggio di rientro, meno coda del previsto e meno irresponsabili che sfrecciano a velocità proibitiva. Plutone e Giove, Urano vi remano contro, dall'acquario e dal toro. Lo studio oggi vi porta fatica e difficoltà a procedere nell'ultimare quanto vi eravate programmato. Ritrovate la calma e non vi preoccupate se riuscite a rendere di meno, recupererete tra qualche giorno portandovi più avanti del previsto. Benessere L'anima si rasserena e quando lei sta bene anche il corpo ti è indietro. Lo specchio infatti riflette una persona sana e tendenzialmente serena, certo, anche voi avete i vostri alti e bassi, indotti da situazioni ambientali e da rapporti interpersonali, tuttavia le vostre pratiche meditative, lo yoga e le arti marziali hanno avuto buon esito e si vede. Per lei, su un'imbarazzante questione di cuore è fondamentale mantenere il segreto, attenti a non inviare per sbaglio messaggi compromettenti. Per lui, all'improvviso un amico vi manifesta ostilità, la ragione non è un segreto per nessuno, entrambi presi dalla stessa fata. Colore delle emozioni, rosa salmone. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 6, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.